Eccoci, bentrovati a questo nuovo video lezione del nostro corso Creare videogiochi con Scratch Oggi tocca alla lezione dove parleremo di quali blocchetti usare alla secondaria o alla primaria Partiremo proprio dalla secondaria In quanto riprodurremo insieme il tutorial sempre preso da questo sito Microninja Che già avete visto anche nelle precedenti lezioni Oggi tocca a Catch the dots Che è un codice piuttosto insomma complesso Diciamo che così di base direi che è un tutorial per la secondaria Quindi nella prima parte costruiremo insieme Nella prima parte del webinar costruiremo insieme Vi mostrerò dentro Scratch come realizzare questo tutorial Vi mostrerò anche che c'è un piccolo bug nel codice Quindi c'è un piccolo difetto Su cui ho sbattuto anche io un po' la testa ieri Durante la preparazione diciamo di questa lezione E poi cercheremo in qualche modo di semplificare Ovviamente questo tutorial essendo rivolto secondo me alla secondaria Presenta dei blocchetti e diciamo alcune strutture sicuramente troppo complesse Per gli alunni della primaria Cercheremo in un secondo momento anche di semplificare il codice In modo da rendere realizzabile questo progetto anche alla primaria Senza snaturare troppo la meccanica ludica del gioco Catch the dots Ok? Quindi cominciamo Come programmare in Scratch il gioco Catch the dots Cosa farai? In questo progetto imparerai come programmare un gioco In cui il giocatore dovrà accoppiare dei puntini colorati Che si muovono sullo schermo con le parti dello stesso colore di un controller Il controller è questo cerchio con tre colori Ok? Il controller abbiamo preparato una risorsa Quindi va scaricato In realtà quello che scaricherete è un file Che verrà aperto per Scratch 2 Quindi voi dovrete prima scaricare il file Decomprimerlo E poi all'interno di Scratch 2 Io non ce l'ho installato Scratch 2 Ho usato nblock Poi dovrete esportare l'immagine Questo costume dall'interno di Scratch Ve lo mostro Allora ho aperto il file scaricato all'interno di nblock Perché non ho più Scratch 2 installato sul pc Come vedete ecco il controller Vado nei costumi dello sprite controller Ecco qui la mia immagine Vado sopra Faccio tasto destro E salva in un file locale Quindi vi salverete quest'immagine all'interno Ora la metterò sul desktop Insomma dove volete La chiamerò controller per webinar Chiudo nblock Apro Scratch 3 Scratch desktop Attendo che si apra Eccoci Seleziono lo sprite 1 Entro all'interno dei suoi costumi E importo Torna indietro Non dalla libreria Ma importerò Importerò Il costume esterno Che ho sul desktop Che si chiama Controller Ok No l'avevo messo da quello chiamato Aspettate Cerco dove è quello che ho chiamato Controller webinar Ok Ho controllato L'ho salvato per sbaglio All'interno di un'altra cartella Che è nel desktop Sketch the dots Eccolo qua Controller per webinar Eccola qui la nostra immagine Come vedete è un po' troppo grande Rispetto a quanto ci mostra il tutorial Vi consiglio di non toccare l'editor Delle immagini qui Perché altrimenti Rischiate di spostare Di disallineare Rispetto al centro La nostra immagine La cosa migliore È fare Ridurre L'immagine Agendo qui sul parametro dimensione Che trovate qua E portiamola al 40% Ok Così la nostra immagine vettoriale Rimane perfettamente al centro Dello sfondo Su cui è disegnata Ma all'interno poi del nostro progetto Viene scalata al 40% Questa è un'immagine vettoriale Significa che può essere zoomata In più e in meno Senza perdere risoluzione Ok Andiamo avanti Vediamo il nostro tutorial Come di consueto Durante queste lezioni Io lavorerò su Scratch 3 Mentre il nostro tutorial Su Microninja In Scratch 2 Ma ho già controllato che A parte un blocchetto Tutto il resto è È simile Uguale Ok Andiamo avanti Vogliamo che il controller Ruote in senso orario Quando viene premuta A freccia destra Questo è il codice Che dobbiamo fare Ok Questo è semplice Quando si clicca la bandierina Ciclo per sempre Ok Quindi lo facciamo Nel nostro Nel nostro La bandierina Sapete È qui Poi dobbiamo inserire Un ciclo per sempre Che si trova nel controllo Ok Poi Un Il sensore tasto Freccia destra Premuta Si trova Nella categoria Sensori Questo qua Tasto Che va inserito Dentro un se Che è sempre qui Ok Quindi Per sempre Verifica Che se Il tasto Freccia destra È premuto Allora Ruota Di 3 gradi Il nostro La nostra Immagine Ruota Di Di 3 gradi Così Ok Lo testiamo Premo E premo Freccia destra Ed ecco Che ruota Stop Procediamo Ok Dobbiamo fare La stessa cosa Però con la freccia Sinistra Per farlo Ruotare In senso Anti-orario Quindi Quindi semplicemente Duplicheremo Questo blocco Qui Duplica Lo mettiamo Sotto Freccia Sinistra E la rotazione In senso Anti-orario Che è questa La rotazione La rotazione è sempre Nel Categoria Movimento Ok Poi Ributto Tutto Dentro Il ciclo Per sempre Verifico Destra Sinistra Ok Funziona Procediamo Aggiungiamo I puntini Che il giocatore Il giocatore Dovrà raccogliere Col suo controller Un puntino Non è altro Che uno sprite A forma di punto Iniziamo a crearne Uno di colore rosso Quindi andiamo Su Creeremo Un nuovo sprite Disegna Un nuovo sprite E poi Selezioniamo Il colore rosso Ok Quindi questa volta Lo sprite Non andrà Creato Importando Un'immagine Dall'esterno Ma andrà Proprio Disegnato Ex novo All'interno Della nostro Editor grafico Ok Quindi Andiamo qui Disegna Nuovo sprite Il pennello Lo sprite In questo caso È semplice Da realizzare Perché è un cerchietto Cerchiamo di metterlo Al centro Ok Diciamo che così Va bene Scegliamo Il colore rosso Ok Ed ecco il nostro File Rosso Consiglia Il tutorial Di chiamare Lo sprite Rosso Ok E questo È fatto Eccolo qua Il nostro Puntino Vediamo Cosa ci dice Poi di fare Il tutorial Aggiunto Questo Blocco Di codice Va aggiunto Questo blocco Di codice Alla pagina Dello script Dello script Dello sprite Rosso Quindi del puntino Vediamo che cosa dice Questo Questo codice Nascondere Attendere Nascondere il puntino Attendere due secondi E per sempre Creare un clone Dello stesso E attendere poi Un numero a caso Tra 5 e 10 secondi Quindi Il codice all'inizio Nasconde il puntino Poi attende due secondi Poi inizia Un ciclo Infinito Dove viene creata Ogni volta Una copia Del puntino E ogni copia Distanziata Da quella Successiva In un intervallo Temporale Tra i 5 e 10 secondi Scelto Casualmente Ok Quindi scriviamo Questo codice Nel Nel codice Del puntino Quindi Situazione Quando si clicca La bandierina Poi Nascondi Che è Nell'aspetto Nascondi Nascondi Eccolo qua Poi Attendere Due secondi N Nel controllo Ok Poi Un ciclo Per sempre Da mettere Qui Poi Crea Clone Di me stesso E attendi Un altro Allora L'attendi Intanto Qui lo metto Ma dobbiamo Trovare Il Crea clone Che è sempre Nella categoria Controllo Ed è qua Crea clone Di me stesso Ok Attendere Numero a caso Tra 5 e 10 Numero a caso Lo troviamo Negli operatori Di matematici A 5 e 10 Eccolo qui Se premo Semplicemente In questo caso Il 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 puntino Sparisce Anche se viene Clonato Noi non lo vediamo Perché Il blocco Nascondi Deve essere In qualche modo Per vedere Nuovamente Il puntino Deve essere In qualche modo Sovrascritto Deve essere Il puntino Ritornerà visibile Quando inseriremo Il blocchetto Mostra Vedete Che è Contrapposto A nascondi Ok E sicuramente Il tutorial Ce lo farà Inserire a breve Questi blocchi Dicono a scratch Che quando inizia Il gioco Deve nascondere Lo sprite Attendere due secondi Ok Il blocchetto Nascondi Serve a pulire Lo schermo Quando viene iniziata Una nuova partita Quindi fare una sorta Di reset grafico Nel nostro gioco I puntini Devono apparire Ai quattro angoli Dello schermo E dirigersi Verso Il Verso Il controller I puntini Che vengono creati Attraverso il blocco Di codice Che abbiamo appena visto Devono quindi apparire In uno dei quattro angoli Dello schermo Come facciamo a dire A scratch Di far apparire Lo sprite Rosso E i suoi cloni In uno degli angoli Dello schermo Dobbiamo identificare Le coordinate X e Y Delle posizioni Iniziali E creare una lista Che le contenga I quattro puntini Iniziali Possono essere Quelli di coordinate 180 180 Meno 180 180 Eccetera Eccetera Ovviamente Questa è una scelta Arbitraria Il vantaggio È che Possiamo usare Solamente due valori 180 E meno 180 E creare una lista Che contiene Questi due valori Può essere usata Per generare Tutte e quattro Le posizioni iniziali Quindi qui Incontriamo L'oggetto Lista Che è una lista È semplicemente È l'equivalente Del vettore Del cosiddetto Array Nei linguaggi Testuali Come Arduino Ed è praticamente Un Un oggetto Che può contenere Più Numeri In questo caso Useremo i numeri Ma può anche contenere Delle stringhe O altri Tipi di dato All'interno È come una matrice A una dimensione A una dimensione Con un solo rigo Quindi possiamo mettere Un numero Alla prima casella Un altro numero Alla seconda casella Un altro numero Alla terza casella E poi possiamo Richiamare Quel numero Indicando nel codice In quale casella È contenuto Ok Ma facciamo prima A vederlo in azione Che A spiegarlo A voce Quindi dobbiamo Creare una lista Che contenga 180 Meno 180 Torniamo in scratch Le liste si creano Nei blocchetti Nella categoria Variabili Crea una lista Diamole un nome Che il nome dà Qui Posizioni iniziali E Abbiamo detto 180 Dovete premere Più per aggiungere Delle caselle Meno 180 Quindi questa È la nostra lista Composta da due caselle La prima casella Contiene il numero 180 E la seconda casella Il numero Meno 180 Possiamo dire Che le singole caselle Siano come Delle variabili Perché questi valori Nel corso di un programma Possono anche Variare Appunto Non devono essere Rimanere per forza Costanti Sono delle variabili Che quindi non hanno Un nome proprio Come abbiamo già visto Altre volte Tipo Punteggio Vite Eccetera Ma hanno Il loro nome È il numero Della casella All'interno Della lista Vediamo Come vengono Poi usate Nello script Dobbiamo creare Sempre Nello sprite Del pallino Rosso Quest'atto Blocco Quando vengo Clonato Vai Alla X Elemento A caso Di posizioni Della lista Posizioni Iniziali E la Y Elemento A caso Di posizioni Iniziali Quindi Che cosa Significa Che scegli a caso Se andare sulla X 180 O Meno 180 E scegli A caso Se andare sulla Y 180 O Meno 180 Quindi creiamo Questo blocco Quando vengo Clonato Lo trovo Sempre nel Controllo Eccolo qua Poi Vai A XY E nel Movimento Ok E poi ci dice Elemento A caso Questi Blocchetti Qui Sono Nelle Variabili Quindi andiamo Qua Eccolo Qua E dobbiamo Mettere Elemento Di Posizioni Iniziali Vedete Che qui Non c'è La tendina Per L'elemento A caso Questa è una cosa Che è cambiata Rispetto alla precedente Versione Di scratch Quindi dovrete Usare L'operatore Dovrete usare L'operatore Matematico Del numero A caso Come è stato usato Qua Ok Quindi metto Questo Qui E metterò Userò L'operatore Matematico Numero A caso Tra 1 E 2 Se lo Premete Mentre è ancora Qui Qui sulla Sinistra Nella barra Sinistra Potete Simularne Nel comportamento Vedete Cosa fa Ogni tanto Fa venire 1 Ogni tanto Fa venire 2 In maniera Casuale Quindi prendo Questo E lo porto Qua E lo porto Qua Scusate Vi riduco La visuale Così vedete Meglio Ok Quindi cosa fa Questo blocco Quando vengo Clonato La x Sarà un numero A caso Tra 1 E 2 Delle posizioni Iniziali Quindi sarà Un numero Una casella A caso O la 1 O la 2 Della nostra Lista Posizioni Iniziali Quindi Significa che Ogni volta Che viene copiato Il puntino Prenderà Una x A caso Tra O 180 O Meno 180 Quindi sarà Totalmente spostato O a sinistra O a destra Del nostro Scenario E stessa cosa Avviene Per la y Numero A caso Tra 1 e 2 Di posizioni Iniziali Quindi Scegli a caso O la prima O la casella Numero 1 O la casella Numero 2 Della nostra lista Posizioni Iniziali Quindi Anche qui La y O sarà O meno O 180 O meno 180 Quindi Totalmente In alto Nel nostro scenario Totalmente In basso Vediamo cosa ci dice Poi il tutorial Poi lo sprite Dovrà Muoversi In direzione Del controller E diventare Visibile Quindi dobbiamo Aggiungere Punta verso Controller E mostra Punta verso Controller Lo troviamo Nei Movimenti Sprite 1 Ora controller Se lo vogliamo Proprio fare uguale Chiamiamolo Sprite 1 Lo chiamiamo Controller Ok Quindi eccolo qui Punta verso Controller E mostra N In aspetto Eccolo qua Bene Vediamo che succede Se premo Eccolo lì Che ora Si rivede Il nostro Il nostro puntino Che punta Molto 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 Lentamente Verso Il controller Vediamo Cosa dobbiamo Aggiungere In realtà Non punta Lentamente In realtà Si è mosso Una volta Sola Perché Chiaramente Fino A Punta verso Il controller Vuol dire Che va Nella direzione Del controller Perché I passi Li farà Nel momento In cui inseriamo Questo ciclo Di ripetizione Che dice Ripeti Fino a quando Sta toccando Il controller Ok Quindi Fino a che Non lo tocca Lui continua A girare A far fare Un passo Al nostro puntino Quindi Controllo Ripeti Ripeti Ora il nostro Il nostro pallino Sta Scorrendo Vedete Poi arrivano Vedete Poi arrivano Le copie I cloni Arrivano Uno a uno Ok Andiamo Andiamo avanti Procediamo Per evitare Che la lista Sia visibile Fare click Ok La nascondiamo Per nasconderla Basta andare qui In dati E Togliere questa spunta Ed ecco che la nostra lista Sparisce dallo scenario Procediamo Avrai notato Che quando il puntino rosso Raggiunge il controller Si ferma E niente più E' esattamente il risultato Delle istruzioni date Fino adesso Cosa vogliamo che succeda Invece Quando il puntino rosso Tocca il controller Possono verificarsi Due casi differenti Se lo tocca Nel quadrante rosso Vogliamo che il giocatore E guadagni dei punti Altrimenti Se lo tocca In un quadrante Non rosso Vogliamo che Il giocatore Perda una vita Prima di procedere Dobbiamo quindi Creare Le variabili Le variabili Punti E vite Ok Queste si creano Dal menu Variabili Andiamo qua Variabili Crea una variabile Punti È stata creata Eccola qua E ne crea un'altra Vite Ed eccola qua Ok E mi appaiono in anteprima Se le volessi nascondere Basta che tolgo Questa spunta Qui Ok Posso anche Arrangiarle In maniera Diversa Qua su Nello scenario Diciamo che posso Spostarle Così Ok Andiamo avanti Scrivi Quindi il codice Seguente Sempre Stiamo sempre scrivendo Codice Vedete qui per Per il puntino Per il pallino rosso Ok Poi fai 5 passi E poi metti Un ciclo Se Altrimenti I 5 passi Sono sempre Nel movimento Eccolo qua E poi mettiamo Un bel Se Altrimenti Cosa ci dobbiamo mettere Se sto toccando Il colore Rosso Sensori Sto toccando Il colore Eccolo qua Ora Come saprete Quando C'è da lavorare Questa è una cosa Che Come dire Un piccolo Impiccio Un piccolo Incidente Che trovo sempre Quando faccio poi Formazione Dal vivo Sia con Gli studenti Che con i docenti Il problema Il problema del colore Che Io posso anche Cercare un rosso Qui Selezionando colore Però E' sempre Difficile Identificare Ora magari Col rosso Un po' più Facile Ma è sempre Difficile Trovare Poi la giusta L'esatta Sfumatura L'esatta Sfumatura Del colore E quindi Dobbiamo Utilizzare Questo strumento Qui Che è il Color Picker Ok con cui Lo selezioniamo E poi andiamo A campionare Il colore Che vogliamo Identificare Quindi in questo caso Il rosso E voilà Lui in automatico Mi trova A questo punto La sfumatura La sfumatura Esatta Se per esempio Fossi andato Da un'altra parte Che ne so Sul blu O sul grigio Tac Vedete Cambia il colore Diventa grigio In questo caso Voglio Il rosso Eccoci qua Se Sto toccando Il colore Rosso Cambiare Punti Di 1 E produrre Suono Pop Cambiare Punti Di 1 Vado Nelle variabili Cambia Punti Di 1 E suono Avvia Riproduzione Io metto Riproduzione Fino alla fine Tanto se non ricordo male È un suono Breve Quindi tanto vale Metterlo Fino alla fine Ok Altrimenti Altrimenti Cambia Vite Di Meno 1 Quindi vuol dire Che se il pallino Non tocca La sezione Lo spicchio rosso Del nostro controller Perde una vita Quindi cambia Vite Di Meno 1 E produce Suono Laser Allora Torno Nelle variabili Cambia Le vite Di Meno 1 Ok E il suono I suoni Devo importare Qui il suono Laser Dalla libreria Scrivo Nel motore Di ricerca Laser Eccolo qua Ok Torno nel codice Vado nel suono Riproduci Suono E attendi La fine E metto Laser 1 Eccolo qua Ok Vediamo Cosa ci dice Di fare Ok Ora dovremmo Verificare Che Se il puntino Tocca Il quadrante Rosso Guadagneremo Un punto Altrimenti Perderemo Una vita Il blocco Di fare 5 Il blocchetto Fai 5 passi Ovvero Questo Permette al puntino Di saltare Il bordo Nero Del controller In questo modo Possiamo verificare Se viene verificata Se viene verificata la condizione Sto toccando il colore rosso In ogni caso Il puntino rosso Deve essere eliminato Dopo aver toccato Il controller Quindi Sia che Sia che Il puntino Tocchi La sezione giusta Del controller Oppure no Alla fine Deve essere Eliminato E quindi Dobbiamo aggiungere Questo blocco Qui Elimina Questo clone Che lo troviamo Sempre nel controllo Elimina Questo clone Eccolo qua Ok Poi vediamo Non abbiamo ancora definito I valori iniziali Delle variabili Vabbè Questo ora Lo verifichiamo Un attimo Il funzionamento Del codice Facciamolo ripartire Ecco il nostro Pallino rosso Che arriva dal basso Vediamo Vedete L'ho fatto colpire Nel rosso E il punto Mi è stato assegnato Un altro punto Vediamo se ne arriva un altro Eccolo qui 3 punti 4 punti Bene Funziona Andiamo avanti Dobbiamo definire I valori iniziali Delle variabili Punti e vite Vogliamo che il valore iniziale Di punti sia 0 E che le vite Sia a 3 Quindi creiamo Un blocco Che come vedete Viene innescato Dalla bandierina verde Quindi a inizio gioco Che viene assegnato Allo Allo sfondo Allo Al palcoscenico Ok Non riguarda Non riguarda Gli altri due sprite Vi ricordate La prima lezione Della metafora Del teatro Viene assegnato Viene assegnato Allo sfondo Al palcoscenico Semplicemente Perché come possiamo dire Che sia un pezzetto Di codice Di sistema Che viene Fatto All'inizio Che riguarda Tutto il gioco Tutto il contesto E quindi Non ha molto senso Assegnarlo A un singolo personaggio A un singolo sprite Quindi quando si clicca Bandierina Portare vite a 3 E punti a 0 Vado qui Seleziono lo sfondo Situazioni Quando si clicca La bandierina Porta Nelle variabili Porta Il punteggio I punti A 0 E le vite A 3 Eccolo qua Vedete Quando premo Punti vengono Resettati E le vite Vengono Resettate Al valore Di 3 Andiamo avanti Lanciare il programma E vedere Che tutto funzioni Correttamente Ok Funziona Ma non finisce mai Non abbiamo infatti Fissato Alcuna condizione Che dica Scratch Di fermare Il gioco Nel caso Venga soddisfatta Ed è quello Che faremo Adesso Sempre all'interno Di questo codice Di questo script Abbinato Allo sfondo Metteremo Questa condizione Qui Attendi Fino a che le vite Saranno minore di 1 Quindi arriveranno a 0 E blocca tutto Ferma tutto Quindi torniamo qua Controllo Controllo Attendi Fino a quando Operatore matematico Del minore Minore di 1 Che cosa? Le vite Che sono nelle variabili Vite minore variabili Blocca Tutto Il ferma tutto E' nel controllo Eccolo qua Ok? Quindi vediamo Io faccio partire Il mio gioco Sbaglio Quindi perdo la vita Come vedete Qua su Perdo un'altra vita E ora ne perderò Ne perderò un'altra 0 E tutto si è fermato Ok Funziona Procediamo Puntini di tre colori I puntini devono essere rossi Gialli e blu Per il momento Abbiamo lavorato solo Con i puntini rossi Dobbiamo quindi creare Altri due Sprite Giallo e blu E fare in modo Che si comportino Esattamente Come lo sprite Rosso E qui La cosa è molto semplice Basta duplicare lo sprite Cambiare colore E cambiare ovviamente La sensibilità Al colore Che viene toccato All'interno di ciascuno script Ok? Lo dice qui Poiché i due nuovi sprite Dovranno comportarsi In maniera del tutto simile Allo sprite rosso Puoi copiare Nella loro pagina Di script Il programma In scratch Che hai scritto prima Dovrai solamente cambiare Il colore Nel blocco Sta toccando il colore In modo che corrisponda Al colore Dello sprite In questione Ok? Quindi Dobbiamo duplicare Questi sprite Torniamo qua Selezioni il rosso Tasto destro Duplica Tasto destro Duplica Questo lo chiameremo Giallo Andiamo a cambiargli A cambiargli Il colore Il colore Entriamo quindi Nei costumi Selezioniamo E scegliamo Il Giallo Ok? Ci va bene così Ci accontentiamo Ok? Quest'altro Lo rinominiamo Blu E Selezioniamo E gli diamo Il colore Blu Ok? Ora dobbiamo Modificare Appunto Questo blocchetto Che c'è qua Allora il rosso Ovviamente rimane rosso Sto toccando il colore Rosso Il giallo Andrà cambiato Come vi ho detto Prima Utilizzeremo Lo strumento Scusate Lo strumento Color Picker Quindi Seleziono E vado sul giallo Voilà Diventato giallo E stessa cosa Per quello Blu Eccolo qua Ok? A questo punto Dovrebbe funzionare Tutto Procediamo E c'è un'ultima Modifica Ancora più difficile Possiamo rendere Il gioco Ancora più difficile Ad esempio Possiamo fare in modo Che la velocità Con cui appaiono I nuovi puntini Aumenti Progressivamente Ossia Che il tempo Di attesa Tra la creazione Di un puntino E il successivo Diminuisca Progressivamente Per farlo Creiamo Una variabile Tempo di attesa E inizializziamola Con un valore Di 8 Quindi variabile Torniamo qui Nelle variabili Crea una variabile Tempo Quando si clicca Portare la nostra variabile A 8 Così Ok Vediamo Cosa dobbiamo aggiungere Adesso dobbiamo fare In modo che Ogni 10 secondi Tempo di attesa Diminuisca Di mezzo secondo Fino a che Raggiunge il valore Di 2 Quindi dovremo Inserire questo ciclo Di ripetizione Ripeti Fino a quando Tempo di attesa Uguale a 2 I ripeti Li troviamo In controllo Ripeti Fino a quando Operatore matematico Dell'uguale Eccolo qua Uguale a 2 Tempo di attesa Nelle variabili E ogni 10 secondi Attendi 10 secondi Cambia tempo di attesa Di meno 0,5 Attendi E' qui nel controllo 0,5 0,5 Scusate Dovete scrivere Non la virgola E cos'è che va messo Cambiare tempo di attesa Di meno 0,5 Meno 0,5 Ok in questo modo Ogni 10 secondi Diventerà più Frequente Ma vedrete Non ci arriverete mai A vedere Diventare Più frequente La rigenerazione Dei puntini Perché Perché Il gioco è già difficile Di per sé Quindi Si fa fatica A vedere tanti cicli Di generazione Non ti rimane Ora Da far altro Che modificare Il blocco Attendi Numero a caso Tra 5 e 10 secondi Dello sprite Dello sprite Rosso Giallo E blu E mettere Tempo di attesa Sì perché La rigenerazione Fino adesso L'avevamo gestita In maniera Casuale Cioè la clonazione Di ogni singolo pallino Qua vedete Crea clone E poi Quando è che si ripete Attendendo Tra i 5 e 10 secondi Scelti casualmente Quindi questo va tolto E si mette Tempo di attesa Al rosso Al giallo E al blu Eccolo qua Vediamo Tempo di attesa L'abbiamo messo Puntini più veloci Al momento I puntini si muovono Ad una velocità Di un passo Sapresti fare In modo che La velocità Beh Ora questo Non lo inseriamo Dobbiamo inserire Il punteggio record Questo può essere interessante Se non altro Per vedere L'uso Dei blocchi personalizzati Quindi Della creazione Di Della dichiarazione E definizione Di funzioni Personalizzate Anche se in realtà In questo caso Non sarebbe Nemmeno necessario Visto La Come dire L'esiguità Del codice Che sono solo Tre blocchetti Però Lo facciamo Lo stesso Quindi selezioniamo Lo sprite Dello sfondo Dobbiamo definire Un nuovo blocco Una nuova funzione Che chiameremo Controlla Punteggio Record Quindi andiamo qua Selezioniamo Lo sfondo I miei blocchi Crea un blocco Che abbiamo detto Controlla Punteggio Record Ok Ecco qua Cosa ci mettiamo Qua dentro Se punti Se i punti Che farò Sono superiori Al record Precedente Quindi dobbiamo Quindi dobbiamo Anche creare Una variabile Record Ok Poi operatore Scusate Un se Un se allora Operatore Matematico Maggiore Variabili Se i punti Sono superiori Al record Precedentemente Registrato Porta record Appunti Quindi Aggiorna Record Porta Record Appunti Eccolo qua Se il valore Attuale Di punti E' maggiore Del valore Di record Allora Assegna Record Il valore Attuale Di punti Ok Ora dobbiamo Solo dire A scratch Di controllare Il punteggio Record Quando finisce Una partita E dove lo mettiamo Il nuovo blocchetto Che abbiamo creato Cioè Controlla Punteggio Record Che è Definito Da questo blocco Qua Perché qui Abbiamo solo Definito Ma non lo stiamo Ancora usando Questo codice Qui Per usarlo Dobbiamo Tirare fuori Questo blocchetto Qui Che è stato Generato Dopo la nostra Definizione E dobbiamo Metterla Qua Quando finisce Prima della fine Della partita Ok La partita Finisce Quando Quando le vite Sono inferiore A 1 Quindi 0 E prima Che tutto Venga bloccato Quindi Qua Qui nel mezzo Ok Se vado Nei miei blocchi Ecco Che mi trovo Controlla Punteggio Record Quello Che fa Questo blocchetto Personalizzato È definito Da questa parte Di codice Ok Ovviamente Essendo così breve Questo blocco C'è solamente il se Probabilmente Potevamo Semplicemente Prendere questo E metterlo qui Però Il tutorial Ha voluto usare La definizione Di un Di una funzione Di un blocco Personalizzato Perché Come dire Perché sicuramente È il modo più pulito Ed elegante Di Di fare queste cose Via via Che magari diventano Più complicate Insomma In questo caso Era così semplice Che non c'era bisogno Di scomodare I miei blocchi Andiamo avanti Lancio il gioco Per vedere Che tutto funzioni A modo E Ok Quindi facciamo Una prova E vediamo Record Lo mettiamo qua Premo Ingrandisco Vedete che Già c'è qualcosa Che dobbiamo controllare Che ci siamo scordati Di verificare Vediamo Dov'è l'errore Eccoci L'errore sta nel fatto Che non ha Che I pallini Vengono Clonati Troppo rapidamente Perché ci siamo scordati Di inizializzare Inizializzare Il valore Di tempo di attesa Perché non ho Aggiornato Questa Questa tendina qua Vedete Porta tempo di attesa A 8 E io Ho scritto Porta la mia variabile 8 Perché non ho Premuto qui la tendina Tempo di attesa Vediamo Ok Ora funziona Allora Cerchiamo di Incastrare 3 punti In un colpo Solo Oddio 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 Ok Volevo farvi vedere Una cosa Teoricamente Dovrebbero Nascere Sempre 3 pallini Aspettate Lo fermo Un secondo Ok Era un po' Troppo veloce Perché ci siamo scordati Mi sono scordato Di aggiornare Anche questo valore Qui di attesa Che se guardate Cambia tempo di attesa In meno 0,5 Ma c'è un attend Di 10 secondi Ecco Perché andava Così veloce Vediamo Ok Vediamo Se riesco A fare 3 punti In un colpo 3 punti Ecco Vedete Quassù Vediamo 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 Ok Avete visto C'è qualcosa di strano Ho fatto i 2 punti Ma mi ha anche tolto Una vita Guardate Qui succederà di nuovo Vedete Mi ha tolto una vita Nonostante abbia fatto I 2 punti 3 punti all'inizio Poi 2 Poi 2 Questo è il bug Che ho trovato Ora qui sono morto Ok Questo è il bug Che ho trovato Guardate Ogni volta che Vengono fuori Solo 2 pallini Anche se azzecco La posizione Faccio 2 punti Però mi toglie una vita Secondo voi Perché? Pensateci un attimo Quando invece Ne arrivano 3 Azzecco la posizione Faccio 3 punti Vedete Sono passato a 5 E non mi ha tolto la vita Adesso Dov'è Eccolo qua 2 punti Guardate Mi ha tolto una vita Anche se Mi ha dato i 2 punti C'è un bug Diciamo che nel codice Nel tutorial Lo abbiamo visto insieme Non dice niente Al riguardo Il bug è questo Che teoricamente Il gioco Per funzionare correttamente Io dovrei sempre Vedere simultaneamente Almeno 3 pallini Perché ogni tanto Ne vedo 3 E ogni tanto Ne vedo 2 Ogni tanto Può anche capitare Che ne veda uno solo Perché Ricordatevi Che ogni pallino Sceglie la sua posizione Di partenza Casualmente Cioè O X 180 80-180 O Y 180-180 180 Quindi può capitare Essendo una scelta casuale Può capitare Che 2 pallini O addirittura 3 pallini Partano dalla stessa posizione E quindi Siano sovrapposti Dato che si muovono Con la stessa velocità Se sono sovrapposti Io magari Vedo L'ultimo Dei 3 E magari Che ne so Penso che sia il blu Posizioni controller In modo da Prendere il pallino Con il Settore blu Del mio controller Ma sotto quel pallino C'è anche un pallino rosso E un pallino giallo Quindi faccio Un punto Col blu Però perdo due vite Col giallo e col rosso E la stessa cosa accade Quando Ci sono due pallini Uno È da solo E l'altro Invece Ne Nasconde Un altro E quindi Chiaramente Faccio due punti E perdo una vita Quindi questo sarebbe Un bug Che teoricamente Bisognerebbe Risolvere nel codice Ora nel tutorial L'abbiamo visto insieme Che non ne fa menzione E sarà qualcosa Insomma Su cui Vi darò poi Eventuali aggiornamenti Nel blog Del sito Paleos Punto it Cerchiamo adesso Ora che siamo arrivati All'ultima parte Del nostro webinar Di capire Come poter Semplificare Questo codice Per Renderlo In qualche modo Più potabile Più realizzabile Anche nella primaria Perché ovviamente Così Di base Questo è un codice Per la secondaria Insomma Per Secondaria di primo grado O Anche Insomma I primi anni Delle Delle superiori Sicuramente Per la mia esperienza Personale Come dire Diventa Tutto questo lavoro Sui Tutte queste variabili E anche sulle liste E' molto difficile Da spiegare Agli studenti Della primaria Quindi Cerchiamo di capire Adesso come possiamo Tenere Un Mantenere Un po' Una meccanica Ludica Simile A quella Che abbiamo visto Però Semplificando Di molto Il 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 Codice Semplificare Ricordatevi Sempre che Da quello che è la mia esperienza Spesso non è tanto Una semplificazione Nella logica La logica Probabilmente Riescono Insomma Si può anche capire Perché Se guardate bene Ogni singolo Sprite Alla fine Ha una struttura Logica Non Non esageratamente Complessa Però Per carità Ci sono anche Un bel po' Di condizionali Sapete bene Per esperienza Lo saprete anche voi Meglio di me Che i condizionali Insomma Si iniziano un po' A introdurre Dopo la Insomma Dalla quarta In poi Eventualmente Anche perché Poi anche i prodotti Un po' più rivolti Al coding O alla robotica Nella primaria E Non Lo tengono sempre un po' In In secondo piano Ovviamente Che ne so Il B-Bot Non Non c'è modo di esprimere Il condizionale Nel Lego WeDo Nell'applicazione originale Della Lego C'è il condizionale Diciamo Molto Nascosto Molto interno A dei blocchi Non espresso In maniera Così universale Come E chiara Come espresso In Scratch Sicuramente Sicuramente Troviamo I condizionali In altri prodotti Come Lo Scotty Go Oppure Se iniziamo a utilizzare Scratch O Lego Mindstorm O Gli M-Bot Che però Chiaramente arrivano Un pochino Alla fine Nella seconda parte Della primaria Però Sicuramente I condizionali Si possono usare Molta difficoltà La vedo Nel ragionare Sulle variabili Perché probabilmente È qualcosa Che poi si apprende Più in là Alle medie Quando In matematica L'uso delle variabili L'uso dei simboli A cui è associato Comunque Un valore numerico E quindi Cerchiamo di capire adesso Come ridurre Un pochino L'uso delle variabili E chiaramente Anche magari Ridurre Un po' L'aspetto quantitativo Perché a parità Di logica Ovviamente Gestire tre pallini Non è la stessa cosa Di gestire Di gestirne Uno solo Ok Quindi intanto Possiamo anche Secondo me Fare una semplificazione Cancellando Due Due pallini Lavorando solo con uno Quindi Il gioco rimane Comunque Abbastanza interessante Perché Dobbiamo comunque Lavorare Nel prendere Almeno Il pallino Col giusto colore Magari possiamo Velocizzarlo Cerchiamo di capire Come E Eliminare Magari Un po' Di variabili Andiamo Nelle Nelle variabili Sicuramente Non è semplicissimo Spiegare Magari Alla primaria Il concetto Di lista Quindi Di matrice Di matrice Diciamo Mono Di vettori Di vettori Matematico In qualche modo Quindi Qui possiamo Per esempio Decidere Che Nel momento Della partenza Il nostro pallino Magari La posizione Iniziale Togliamo L'uso Della L'uso Della lista E magari Esprimiamo La x e la y In maniera Assoluta Casuale Cioè In questo modo Tolgo Questo Tolgo Questo E Esprimo Quindi la x E la y Usando Il numero A caso Tra 180 E meno 180 180 E meno 180 Ovviamente C'è lo svantaggio Che ogni tanto Può anche Darsi Che il Che il Che il nostro Che il nostro Pallino Venga generato Appunto Come in questo caso Particolarmente Vicino Però Insomma Ci sarebbe modo Poi per esprimere Un modo ancora più semplice Per semplificarlo Potrebbe essere Quello di togliere La generazione In qualche modo Casuale Con la x E la y Quindi questo Lo togliamo Togliamo Il Blocchetto Nascondi Qui Vediamo cosa succede E fare in modo Che Aspettate Fare in modo Di Fare un Posizionamento Manuale Del nostro Pallino Alla partenza Che possiamo Ottenere In questo In questo Modo Se noi lo Prendiamo Dov'è Lo devo Mostrare Mostra Premo Mostra Ok E lo posiziono Manualmente Quando faccio Partire Il gioco C'è uno Sdoppiamento Da quella Posizione E poi Il gioco Continua Ora Ovviamente Qui si perde Si perde L'elemento Della Della Casualità E per cui Insomma Chiaramente Se inseriamo Un elemento Casuale Dobbiamo Utilizzare I numeri E quindi Bisogna fare Come vi ho mostrato Precedentemente Se uno Non vuole usare La lista Può mettere Numero a caso Tra più e meno X Meno 180 A 180 Ricordatevi sempre Che il Piano cartesiano Di scratch Ha l'origine Il 00 Nel mezzo Ok Quindi Dal mezzo Dal centro A sinistra È meno X Dal centro A destra È più X Dal centro In alto È più Y Dal centro In basso È Y Negative Ok Altra cosa Che possiamo Togliere È sicuramente Il blocco Personalizzato Che insomma Alla primaria Non Insomma Non si fa Insomma La definizione Di funzioni È molto È molto Complessa Anche se Poi Ripeto Anche qui Dipende un pochino Dal livello Perché Ripeto Alcuni prodotti Come Scotty Go Che comunque Sono dedicati Alla fine Della primaria A cavallo Fra la primaria E le medie Comunque Tutte queste Strutture Tutte queste strutture Di Queste architetture Di programmazione La creazione Di funzioni Variabili Liste Condizionali Sono tutte Possibilità Che vengono date Ecco Quindi Bisogna sempre Vedere un pochino Qual è Qual è il livello Ora Fatta così Non è difficile Però Insomma Essendo abbastanza Inutile Questo si può Anche togliere Se uno vuole Semplificare un po' Il codice Per la Per la primaria In modo Più che altro È un modo Per concentrarsi Quasi esclusivamente Secondo me Un obiettivo Di coding Già Interessante Per la primaria È abbastanza È abbastanza Facile È almeno Concentrarsi Sulla logica E sui condizionali Ok Magari Risparmiandoci Un po' Di fatica Sul versante Dei punteggi Quindi Cioè Delle variabili Quindi possiamo Anche togliere I punteggi Per esempio Quindi tutta questa parte qui Del fine partita Eccetera Magari la possiamo Anche togliere E Tenere solo Il Il tempo Anche questa parte qui Che fa diventare Il gioco Via via più veloce Quindi tutte variabili Vedete Tempo di attesa Eccetera Eccetera Anche questa parte Secondo me Si può togliere E lavorare Quindi solo Sulle logiche Dei condizionali E sui cicli Che secondo me Sono l'obiettivo Più facile Da capire Alla primaria E anche più E anche utile Insomma Già abbastanza avanzato E quindi Il controller Se premo qui È perennemente Se faccio partire il gioco Il nostro controller È perennemente attivo Perennemente attivo Vedete che viene evidenziato In giallo E che quindi È controllabile Con i tasti Della tastiera Con due condizionali Se Allora Rotazione Senso orario Se Allora Rotazione In senso Antiorario E Un codice Per il nostro Script Aspettate che Nascondo Le variabili Per il nostro Script Dove vediamo Possiamo Qui il tempo Di attesa Se eliminiamo La variabile Lo possiamo Tranquillamente Scrivere Direttamente Con il numero Mettiamo 8 Quindi rimarrà Costante 8 Rimetterei Il nascondi Perché funzionava Meglio E rimetterei Il La generazione Qui della X e la Y Casuale Quindi Il vai A XY Che è qua E mettiamo Il numero A caso Come abbiamo Detto Tra X Uguale Numero A caso Tra Meno 180 E 180 E viceversa E uguale La Y Meno 180 180 Eccolo Qui Vediamo C'è qualche Altra variabile Da eliminare Vabbè Il punteggio Possiamo Togliere Tranquillamente Il punteggio E Avere Come feedback Solamente Il suono Che ora Non sentite Probabilmente Perché C'è Il canale Occupato Dal Dal microfono In questo Modo Facciamo Partire Il gioco Abbiamo Solamente Il Problema Del Dove Eccolo qua Ogni 8 Secondi Possiamo Metterlo Anche Più Rapido Perché Ora Con 8 Secondi Magari Mettiamo 4 Secondi Qui Il tempo Di Rigenerazione Del clone Mettiamo 4 Secondi Il gioco Parte Eccolo Pack Dobbiamo Attendere Qualche Secondo Torna Lì Ok Vediamo Eh Questo è partito Troppo vicino Vediamo Vediamo se ne arriva Se è spostato Praticamente L'unico L'unico Effetto Collaterale Di questo Codice È che Bisognerebbe Trovare Creare In qualche Modo Una Una Condizione Un pochino Più Articolata Per far Si che Il pallino Venga Generato Casualmente In una X Casuale In una Y Casuale Però Ragionevolmente Lontano Dall'area Del centro Dove si trova Il controller Però in questo Modo Almeno Lavoriamo Solo Sulla Logica Perché abbiamo Tolto Tutte le Variabili Tant'è Che Possiamo Anche Andare Qui Ed Eliminarle Al di là Di non Prenderle Visibili Possiamo Anche Proprio Eliminarle E non Dovrebbe Darci Particolari Problemi Perché Di variabili Non ce n'è Più In giro Quindi Lavoriamo Solo Sulla Logica Quindi Cicli Cicli Infiniti Cicli Che si Ripetono Un tot Di volte Di ramazioni Condizionali E Un minimo 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 Proprio Di numeri Di matematica Diciamo così Di x L e y Anche questa è l'unica riga Un pochino più complessa Dove ci sarebbe un pochino di più Da ragionare Sul piano cartesiano Eccetera Ma in questo modo Vedete che Viene mantenuta Intatta Diciamo La dinamica base Del gioco La meccanica base Il fatto che Devo muovere Con una certa destrezza Il controller Per prendere i pallini Col colore giusto Però Il codice Diventa sicuramente Più semplice Sia dal punto di vista Qualitativo Perché abbiamo tolto Le variabili Le liste I blocchetti Personalizzati Eccetera Ma anche dal punto di vista Quantitativo Perché Ce n'è proprio meno Perché abbiamo tolto Proprio dei personaggi E Dei pallini Ok Vi ricordo Il nostro Lezione Finisce qui Vi ricordo L'indirizzo Dove c'è Questo tutorial Microninja.me Slash Risorse Slash Catch The dots Ricordatevi Come vi ho mostrato In precedenza Che c'è quel piccolo C'è quel bug Nella versione finale Del gioco Che i pallini Si possono Sovrapporre Tra loro Quindi bisognerebbe Trovare una modifica Per farlo Funzionare al meglio Io vi saluto Ci vediamo Tra qualche giorno Per La prossima Lezione Del corso Dove parleremo Dei controller Fisici Appunto A presto Buon lavoro